Ciao, oggi andiamo a vedere la mostra su Antonio Ligabue al Palazzo dei Diamanti a Ferrara, c'è fino a fine giugno 2021. Ne approfitto per fare un filmatino dove censuro le facce dei passanti, così poi in una guida in futuro vi faccio vedere come si usa l'effetto rotoscoppio su sistemi liberi. Vengono alcune amiche, alcuni amici, uno magari lo conoscete, Wen, che ha un canale YouTube che metto in descrizione, interessantissimo sulle seconde generazioni cinesi, sulla cultura cinese e Maria Vittoria che è una voce famosa ormai di Web Radio Giardino. Sigla! Aspetta che devo chiudere qua. Ecco. Allora vi presento, lui è Wen, viene da Bologna giusto? Giusto. Ma ecco. Allora adesso si va al Palazzo dei Diamanti, da che parte andiamo? Dopo tra l'altro se metto su YouTube questa cosa dovrò cancellare le facce a tutti. Ma si può, vero? Eh... Comunque, cioè, bambini sì, per gli adulti è discutibile la questione. Sì, è vero, ti posso eliminare i video quando vuoi. Sì, ma non solo, se uno si vede ti denuncia. Eh, adesso dovevano essere già tutti qua, ma sono tutti dei gradi terratari, come al solito. Vediamo se ce la facciamo. Che pensavo di essere in ritardo? A entrare fra mezzogiorno e mezz... sì, ma tanto comunque è fra mezzogiorno e un quarto e mezzogiorno e trenta l'ingresso nostro, quindi sì. Vabbè, questo l'avrete visto chissà quante volte, è il Palazzo dei Diamanti. Ecco il piscino. Tra l'altro, vero, Wen si narra, ma è finto, dentro questa facciata qua del Palazzo dei Diamanti, uno dei cosiddetti diamanti, così, nasconda un diamante vero. Magari. Ma in maniera assolutamente vero. Una delle cose più belle però di questo palazzo è che questi spuntoni non sono tutti uguali, non sono regolari. Man mano che si va in su, sono sempre più rivolti con la punta verso il basso, perché in questo modo si vedono, stando sotto. È un tramplei. Vediamolo meglio. Oh, che figata! Rifatelo perché non si è visto. A posto. È molto spartano come saluto. Sì, è tagliato. Te li sei tagliati e li hai fatti pure buccolosi. Buccolosi. Sì, è sempre più grosso, più vivo. Sì, sì. Per l'ultima volta. Beh, ma allora a voi Ligabue ti è piaciuto? Ecco, adesso stanno cominciando a parlare di Ligabue, quindi invece capelli è più interessante. ed è picco perché a parte delle anatre super incassericce. guarda, c'è anche una bottiglia di plastica. Hai visto? Valedetti. Allora, a quanto pare abbiamo trovato dei pakistani che stanno giocando a cricket. c'hanno anche le basi, eh. Sì. Allora io non sapevo che era sua ragazza. Io pensavo fosse un'amica. E niente, questa è una delle tante figuracce che ho fatto in vita mia. No, vabbè. alla prossima.